Ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo a Maria, donna del Sì, per l'evocazione al sacerdozio, alla vita consacrata e al sacramento del matrimonio. L'Angelo del Signore portò l'Annunzia a Maria e della concepita l'opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunzio dell'Angelo a Maria Vergine. Pater nostro, qui è sinceri, santifici e turno mentum, adveniat regnuntum, fiat volontas tua, sicuti in cielo e in terra. Pane nostro, in quotidianum, da novi storie, e dimite novis debita nostra, sicuti in nostri dimittimus debitoribus nostris, e ne nostri in ducas in tentazione, siete libera nostra mano. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e di benedictus fruttus ventris Tuo, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, comincero così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonareci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. L'ho dato sia il Signore, prega per noi, 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 prega per noi. L'ho dato sia il Signore, prega per noi, 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 prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grâce, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi entre tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve, Maria, glienares di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito sei il frutto di tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, adottato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adottato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adottato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Si deseo che Br english, terra per noi peccatori di Gesù, come era le buivers popiere per la terra, ует come era in nato sempre rester in cananda sempre worlds. Marta di Dio, prega per noi peccatori, adottato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Dulcis Virgo Maria Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine di Anaglode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergine, Regina di tutti i Santi, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Prega per noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Concede ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Prega, oh Madre di Dio, per tutti noi, prega per l'umanità che soffre miseria e ingiustizia, violenza e odio, terrore e guerre. Aiutaci a contemplare i misteri di colui che è la nostra pace, affinché ci sentiamo tutti coinvolti in un preciso impegno di servizio alla pace. Prega per noi, Madre della speranza, donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il Tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Per Cristo, Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benedichiamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave, o Vergine degli angeli, Ave, o Madre dei credenti, Ave, Regina e Porta del Cielo, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Ave, scenda sul tuo popolo una pioggia di grazie, e s'apra a tutti la porta della salvezza. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.